Gianni Amelio ha girato questo film in modo speciale, quindi io non ho letto assolutamente la sceneggiatura, quindi prima io non potevo analizzare questo personaggio, come deve comportarsi. Una scena, prima di girare questa scena devo subito cercare in mia memoria un'esperienza simile di questo personaggio e poi recito in modo più naturale. I miei genitori sono molto contenti che io faccia questo film, mi sento molto fortunata di scegliere, di scelto da Gianni Amelio, quindi grazie a lui. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.